Ok, l'arcivescovo è animatore vero e tiene il cappello dell'animatore. Perfetto, ecco qua. Se vuole glielo tengo io adesso. Allora, c'era una domanda spinosa. Animatore, per gli amici o per Gesù? Basta, basta, qui non si arriva mai. E i bambini continuano a dire basta, basta, la strada è troppo lunga. No, no, non di lì, lì è troppo ripida, è troppo ripida, non ce la faremo mai. No, ma qui non si sa, ci sono tre strade. Qual è quella giusta? Ah, questa strada, in mezzo al bosco, fermiamoci, fermiamoci qui che è bello fresco e mangiamo i panini. Ecco, le strade possono essere diverse. Quella troppo lunga, quella troppo ripida, quella complicata da troppe deviazioni, quella troppo comoda, che invita a sedersi. Io vorrei dire questo. Sulla strada nessuno di noi può andare molto lontano se non ci sono gli amici, se non si cammina insieme, se non c'è qualcuno con cui incoraggiarsi e dire dai, dai che ce la facciamo, dai che arriviamo. Sulla strada è difficile camminare da soli. Però, però, quei due tali che scendevano da Gerusalemme verso Emmaus erano amici, ma camminavano da soli ed erano tristi, perché non riuscivano a riconoscere Gesù che camminava con loro. Perciò io vorrei rivelarvi la legge più importante del pellegrinaggio. Tutte le parole che sono state dette sono importanti, sono decisive, ma io vorrei chiedervi quest'estate di camminare voi, di far camminare i ragazzi, di arrivare a delle mete bellissime, di prepararvi, di decidere, di partire, di arrivare. Sì, tutto questo. Ma due cose non devono mancare. Non deve mancare Gesù. Senza di Lui, anche l'essere in tanti, anche l'essere bravi, finisce per stancarci. Non deve mancare Gesù. E non devono mancare gli amici. Non devono mancare gli amici. Chi ha fatto questa domanda forse non ha capito il segreto del cristianesimo, che non è mai o gli amici o Gesù, ma è sempre insieme con Gesù e con tutti gli amici. Buone estate a tutti. Grazie. Ci alziamo in piedi per salutare l'Arcivescovo Mario con un grandissimo applauso e con un grande caire al mio tre. Uno, due, tre. Caire Mario. Adesso era proprio il gancio, era questo Arcivescovo, no? Per questo messaggio, che non c'è da scegliere tra gli amici o Gesù. E allora adesso, animatori, saliamo sul palco e balliamo insieme! Vedi, animatori! 3, 2, 1, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 12, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 15, 16, 17, 18, 16, 17, 18, 18, 19, 18, 20, 18, 18, 18, 19, 18. Mano nella mano è come se lui fosse qua Pensa quante volte ha detto posso farcela Ora è il tuo momento, parti insieme a noi Via vai, la tua strada scegli fra tante Via vai, la tua guida è sopra le scelle